Siamo nella sede dell'Ampi di Fano, dove si è appena concluso l'incontro con Giovanni Pastato. Siamo qui adesso con il presidente dell'Ampi di Fano, Paolo Pagnoni, al quale chiediamo questo è il secondo degli appuntamenti sulle mafie. Quali sono i programmi futuri? Noi avevamo messo in programma tre incontri proprio su resistenza e legalità, il secondo incontro è stato oggi interessantissimo, una testimonianza di Giovanni Pastato. Chiudiamo giovedì prossimo 21 febbraio alle ore 21 in questa sala dove proiettiamo il film I Cento Passi di Marco Toglio Giordano. Grazie e confermiamo che anche questa volta la presenza dei giovanissimi era notevole. Per noi questo è un motivo di grande soddisfazione perché lavoriamo per trasferire la memoria e queste testimonianze sono decisamente molto molto costruttive. Grazie, alla prossima.